Oggi terzo giorno per questo giro in Toscana organizzato dal Genova Fuoristrada in collaborazione con altri club, ci stiamo spostando, ieri eravamo a Sarzana, adesso ci stiamo spostando in Bersiglia. Oggi dove andremo a girare? Allora nella pista che si chiama la gulfa del club che si chiama Bersiglia 8. Bravissimo! Le hai già provati due in fondo? Vengalo. 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 Grazie a tutti. E' la bombola! E' la bombola! C'è la levata con la bombola lì! E' la bombola! E' la bombola! E' la bombola! Ehi! E' la bombola! 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 Grazie a tutti. 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 Buon, tutto di qua adesso. Vieni avanti. Così. Ma no, va bene, vieni così. Ok, vieni, vieni, vieni. Di qua. Di qua. Vieni, vieni. Buon, dritto così. Dritto così. Vieni, 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 vieni. Guardami me. Vai. Vai che sei uscito. Di là, di là, di là, di là. Bravo, bravo, Marte. Numeri, allora no. Allora, abbiamo lasciato la pista del Versiglia fuoristrada, dove ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo grigliato, abbiamo mangiato, poi si è messo a piovere e ci hanno portato a fare un giro soft, panoramico. Ci hanno detto che fanno i raduni di autostoriche in questo, diciamo, giro qua. E solo che adesso siamo fermi perché una macchina ha avuto un problema. Perché se volete vi porto a farla vedere. No, perché è lontano. Ma mettete like negli altri video. Si, mettete i like e comunque parliamo piano perché dietro, vabbè, prima dormivano tutti, ora dorme solo uva. Guarda se c'è qualcosa. Ora basta video, ci vediamo domani che andiamo a vedere le cave insieme a quelli del Versiglia fuoristrada che ci portano qui lì. Grazie.